Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti in questo video di calcio-mercato dedicato alla Roma e al colpo che è stato messo a segno dalla squadra giallorossa, Nemania Matic. In questo video vi vado a descrivere le cifre dell'affare, quindi il contratto che è stato fatto firmare a Matic, la durata del contratto, le cifre del contratto, lo stipendio e tutto il resto. Vi vado a descrivere il giocatore, quindi quali sono le sue caratteristiche tecniche, qual è stata la sua carriera, quale contributo può dare alla Roma sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista tattico, quindi dove può essere collocato nello schieramento nel modulo della Roma. E soprattutto a livello di leadership caratteriale, perché è quello secondo me il motivo del colpo che ha messo a segno la Roma, ma anche come può combinarsi con le altre manovre di mercato che la Roma ha intenzione di fare, sia in uscita, mi viene in mente Veretù, sia in entrata dove sembra molto caldo l'asse con il sassuolo per frattesi. Quindi vado a dire anche questa combinazione di mercato con Matic e eventualmente Veretù e Frattesi. Darò un voto all'operazione di mercato a fine video, dove con un voto da 0 a 10 vado a sintetizzare tutto il mio pensiero e poi anche una postilla fantacalcistica per quei fantalenatori che hanno adocchiato Matic come un possibile colpo per la loro squadra del prossimo anno. Allora, iniziamo con che giocatore è Matic. Matic è un giocatore famoso, non penso ci sia bisogno di fare una descrizione iper dettagliata delle sue caratteristiche, è un giocatore che sono tanti anni, che gioca ad altissimi livelli, giocatore di esperienza totale sia con la maglia della nazionale, ma soprattutto con le maglie di Manchester United e Chelsea, dove ha giocato da titolare per molti anni. Un giocatore che ha sempre giocato sulla linea mediana del centrocampo, più da mediano che da mezzala, però in passato ha fatto anche la mezzala. Diciamo che è una sorta di precursore, anche con la maglia della nazionale, di Milinkovic-Savic. Giocatore simile come modo di interpretare il gioco del calcio, come modo di approcciarsi alla partita. Giocatore di grandissima fisicità che affronta gli avversari con il proprio fisico, che cerca di recuperare palla in quel modo. Giocatore rude ma non falloso e questo lo ha caratterizzato negli anni d'oro, soprattutto con la maglia del Chelsea. A me è piaciuto di più con il Chelsea che con il Manchester United. Comunque è un giocatore che ha sempre affrontato in maniera rude gli avversari, ma senza essere falloso. È un giocatore che appunto è un po' il precursore del calcio moderno, dove il contrasto fisico ormai è all'ordine del giorno. All'epoca non era così, all'epoca, sembra degli anni 60, comunque una decina d'anni fa non era così, però Matic aveva già quel modo di approcciarsi. Il calcio inglese è sempre stato ultrafisico, però Matic era over the top sotto questo punto di vista. Ma era un giocatore che sapeva anche giocare a pallone. Un po' statico, nel senso non è molto rapido né palla al piede né negli inserimenti. Non è un giocatore veloce di gamba, però è un giocatore molto potente. Ha un tiro da fuori aria devastante, con il piede sinistro soprattutto, batte bene i piazzati. È un giocatore di ordine, è un giocatore che dà sicurezza alla manovra, che difende bene palla con il corpo quando ce l'ha in possesso. È un giocatore a cui è difficile sradicare il pallone dai piedi. È un giocatore con un carattere particolare, nel bene e nel male, perché è un allenatore che ha avuto tantissimi problemi, proprio a livello attitudinale con gli allenatori, con i tifosi. È un giocatore che non si è mai trovato benissimo a livello comportamentale negli ambienti dove è stato, però questo suo essere molto rissoso, molto focoso, lo rende comunque un leader in campo, perché ha quella cattiveria che in campo diventa agonismo e che in Premier, ma per come vive le partite la Roma in maniera molto sanguigna, serve. Giocatori con questa cattiveria agonistica servono come il pane. Alla Roma, ma in generale in Serie A, dove giocatori di carattere, di carisma, ce ne sono pochi, effettivamente, a prescindere dall'età, perché qui non si parla di giocatori over 30. Qui si parla proprio di una cosa naturale, sono attitudini spontanee, non le maturi con il tempo, non è che diventi sanguigno giocando 300 partite in Serie A, o ce l'hai o non ce l'hai, quella è natura. Matic ce l'ha sempre avuta fin da giovane, un giocatore che appartiene al filone di un altro giocatore che aveva quel tipo di caratteristiche, anche con la maglia del Chelsea, cioè Ivanovic. Ecco, è quel tipo di giocatore lì, infatti era una bellissima corrente serba quella lì, una corrente veramente affascinante. Ecco, Matic, per le caratteristiche che ha, secondo me, nella Serie A attuale, che gioca molto sulla linea dei centrocampisti in maniera intensa, a livello sia di ritmo che di aggressività, Matic ce può fare molto bene. Cioè, secondo me, nello scacchiere tattico della Roma, che ha sposato durante la stagione il 3-5-2, che è più un 3-4-2-1, perché poi nei tre di centrocampo Mourinho schierava sempre un trequartista, che fosse Mkhitaryan o che fosse Pellegrini, comunque era un giocatore che tende ad alzare il baricentro, quindi poi alla fine è un 3-4-2-1, quello della Roma, e io penso che Matic venga a sostituire spudoratamente Olivera, che è un giocatore che anche lui non era un giovincello, non era un giocatore di primo pelo, era un giocatore di esperienza, con la maglia nazionale, con la maglia del Porto, soprattutto nelle competizioni europee, però ha fatto male, la Roma non si è integrato bene, a parte che non è che avesse chissà che aspettative su quel giocatore, non mi è mai piaciuto, vi dico la verità. Quando l'ha preso la Roma non aveva aspettative importanti su di lui, su Matic ce ne ho di più. Sebbene abbia l'età che ha, che è più in là rispetto a Olivera, sebbene sia un giocatore che fisicamente di problemi ne ha avuti tanti in carriera, quindi non garantisce le 38 partite stagionali in campionato, più le 15 che farà in Europa la Roma, le 50 partite che farà la Roma, Matic non le garantisce, però se gestito bene, secondo me può dare un contributo veramente importante, ben più alto di quello che ha dato Olivera in quella zona di campo. Io lo vedo come titolare nella Roma, sinceramente non lo vedo come comprimario, io lo vedo come un giocatore cardine. Mourinho lo conosce già perché lo ha allenato in Inghilterra, quindi se Matic è arrivato vuol dire che o lo ha chiesto specificatamente Mourinho, oppure magari è l'entourage di Matic che si è proposto alla Roma, però Mourinho l'ha accettato, quindi c'è nel senso, secondo me è una cosa di comune accordo, e quindi io penso che Mourinho lo faccia giocare. Poi, sicuramente deve essere ceduto per i tu, che è un giocatore che a me in realtà piace tanto, so che piace tanto anche ai tifosi della Roma, ma che con Mourinho non si è trovato bene, e quindi è inutile tenerlo se ci sono queste frizioni, con un allenatore che ha portato un trofeo europeo a Roma, e che quindi ha il diritto e il merito di avere una voce potente adesso, cioè adesso se Mourinho dice lui me lo devi far fuori, se lo può permettere, perché ha portato a casa un trofeo che a Roma non si sognavano nemmeno, per quanto sia stato sbeffeggiato da tanti anche addetti a lavori che non si dovrebbero permettere di dire queste cose, secondo me però Mourinho adesso è una voce potente a Roma, e quindi Veretù ovviamente dovrà essere ceduto, ovviamente è una situazione che non ti permetterà di monetizzarci più di tanto, però Veretù andrà via. L'interessamento di Frattesi secondo me non va a condizionare Matic, è più facile che vada a condizionare Cristante, che per me è stato uno dei giocatori più positivi quest'anno, ci tengo a sottolinearlo, Cristante ha avuto una crescita spaventosa in questa stagione, è un giocatore che l'anno scorso con Fonseca nello stesso modulo, perché anche l'anno scorso a Roma ha giocato il 3-4-2-1, veniva schierato più volte come stopper in difesa nei tre, piuttosto che come mediano, e invece Mourinho l'ha piazzato lì, non l'ha più tolto di lì, ha fatto una grande stagione, Cristante secondo me è stato uno dei migliori, dei più costanti quest'anno, quindi io sinceramente, anche dovesse arrivare Frattesi, che è un ottimo giocatore, e che quest'anno a Sassuolo ha giocato nella mediana 2, insieme a Maxime Lopez, io come mediana titolare vedo Cristante e Matic, e Frattesi avrà il suo modo di giocare su 25 partite, perché non vi credete, cioè comunque ci sono cinque cambi, ci sono tre competizioni, tra l'altro la Roma, non voglio gufare nulla, però è una squadra fatta di giocatori fragili, perché Spinazzola, perché Pellegrini, Zaniolo, Cristante stesso, Matic appunto, Smalling, Cungulla, sono tutti giocatori che in carriera hanno avuto tanti problemi fisici, quindi è una squadra anche un po' fragile, per cui avere delle seconde linee di livello è fondamentale, per cui secondo me l'acquisto di Frattesi non va a pestare i piedi a Cristante e Matic, secondo me alla fine faranno un numero di partite equivalente a loro tre, però vedo un po' più avanti, diciamo che se c'è la partita fondamentale, il derby, lo scontro diretto, la partita dentro e fuori in Europa League, vedo come mediana titolare Matic e Cristante, ecco, Frattesi magari lo vedo più come subentrante, quindi secondo me è un acquisto che può fare assolutamente bene. Andiamo alle cifre del contratto, allora Matic ha firmato un contratto annuale, quindi fino al 30 giugno del 2023, a uno stipendio netto di 3,5 milioni, che con bonus sia individuali che di squadra, che lo possono portare fino a un massimo di 4,3 milioni netti. In più c'è l'opzione per il secondo anno che può esercitare la Roma, quindi sono i contratti che a me piacciono in questo tipo di manovre, cioè quando tu vai a prendere giocatori che arrivano dall'estero, che hanno un'età avanzata, fare l'opzione di rinnovo, secondo me è la cosa migliore, cioè se il giocatore ti dimostra di non essersi ambientato bene, tutto il resto, dopo un anno lo saluti. Se invece si integra bene, ti sei lasciato la possibilità di far scattare un rinnovo automatico, un'opzione di rinnovo, che ti permetterà di averlo anche la prossima stagione. Quindi secondo me la formula del contratto è perfetta, cioè uno più uno con l'opzione per il secondo è perfetta. Le cifre a livello di stipendio per un giocatore così ci stanno, cioè si sta parlando, le cifre che percepirà Mkhitaryan all'Inter sono simili a quelle che prende Matic alla Roma e io penso che l'offerta che la Roma aveva fatta a Mkhitaryan di rinnovo non si discostasse tanto dalla cifra che gli ha dato l'Inter, per cui i soldi che prendeva Mkhitaryan li prende Matic, alla fine non è che tu ti carichi di stipendi eccessivamente gravosi, lo davi l'anno scorso a Mkhitaryan, lo hai perso, lo dai a Matic, hai perso un giocatore a zero, ne hai preso un altro a zero, è un contratto che se va male fra un anno scade e te lo levi di torno, se va bene sarai ben felice di pagare altri 3 milioni e mezzo, 4,3 milioni netti anche il prossimo anno perché vuol dire che Matic si è meritato il rinnovo. Quindi secondo me a livello economico è un'operazione impeccabile. A livello tecnico il giocatore non si discute, a livello anche di esperienza, di leadership, è un giocatore che alla Roma ci sta da Dio, gli unici punti interrogativi sono l'aspetto fisico, perché comunque è un giocatore che ha la sua fragilità e più gli anni passano e più è pericoloso, l'aspetto caratteriale, perché è un giocatore che ha sempre avuto problemi dovunque è stato, con compagni, con tifosi, con allenatori, e quindi Roma è una piazza molto calda che se succede qualcosa di sbagliato, mi ricordo la partita di Coppa Italia dove la Roma perse 7 a 1, mi sembra, a Firenze e nell'andar via o prima di arrivare insomma Kollarov zitti un tifoso, gli rispose male a un tifoso che chiedeva rispetto e Kollarov gli rispose male, finita la carriera di Kollarov a Roma. Cioè, Roma è una piazza molto calda che certi atteggiamenti non li tollera, per cui Matic, spero per lui, spero per la Roma, spero per tutto l'ambiente, che sia maturo, ecco, in questa sua esperienza giallorossa perché rischia di spaccare tutto dopo un mese che è lì, rischia già di litigare e finire la sua carriera anzitempo con la maglia della Roma, intendo. Quindi questo è un grande punto interrogativo e poi ovviamente bisognerà vedere l'ambientamento in Serie A, però io su questo vi dirò sono abbastanza fiducioso. Cioè, è vero che è un giocatore che ha sempre giocato in Premier, che è un campionato completamente diverso, però è altrettanto vero che il campionato italiano, che se ne dica, un campionato di basso livello fa cacare, il campionato non è paragonabile a quello inglese come valore proprio dei giocatori, però, e lo si vede quando un Lukaku in Italia fa 30 gol e la Giunno struscia palla, no? Va bene che l'Inter faceva catenaccio e contropiede, mentre il Chelsea gioca veramente a campo avversario, quindi cambia anche il tipo di gioco, però è palese proprio il cambio di livello, no? Che c'è dal campionato italiano a quello inglese. Però a livello di intensità, con l'italiano è migliorato, secondo me, negli ultimi anni, soprattutto in queste squadre che giochi puntano sull'intensità. La Roma è una squadra molto intensa, molto aggressiva, quindi giocare nella Roma, secondo me, c'è diversità rispetto a giocare nel Manchester United, assolutamente, perché l'Inghilterra su 90 minuti ne giochi 72, qui ne giochi 60, perché le preparazioni atletiche sono diverse, perché in Inghilterra c'è 43 competizioni nazionali, qui c'è la Coppa Italia, giocano i primavera, quindi è comunque diverso. Però non è così diverso come poteva essere 15 anni fa. Ecco, 15 anni fa, a differenza tra il campionato italiano e il campionato inglese, era molto più ampia. Non a livello tecnico, perché il campionato italiano era un top assoluto dei campionati europei, forse era il campionato migliore, a parte Real Madrid e Barcellona, però era un campionato completamente diverso, era proprio l'apoteosi del tatticismo, mentre in Inghilterra non era così, non c'erano nemmeno le marcature, era tutto fisicità, era tutta intensità. Ecco, secondo me si è assottigliata la forbice sul modo di interpretare il calcio tra il calcio italiano e il calcio inglese. Il calcio inglese è semplicemente superiore, è più avanti ed è superiore, però secondo me l'ambientamento in Italia, Matic lo farà anche abbastanza velocemente, quindi sono abbastanza fiducioso sul giocatore. Quindi che voto do a questa operazione? Io do un sette e mezzo, perché c'è questi due punti interrogativi sulla tenuta fisica e quella mentale, però il giocatore è forte, preso bene, che sta benissimo nella Roma, che l'allenatore conosce già, e quindi secondo me non può che far bene. Cioè io mi sorprenderei se Matic a Roma dovesse fare male. Ecco, mi sorprenderei perché è un giocatore su cui io sono pronto a scommettere un euro, è un giocatore che mi convince. Quindi per me è un sette e mezzo più che convinto. Andiamo alla postilla fantacalcistica. Ovviamente dipende se fate mantra o classico. Allora come mantra, se dovesse essere listato mediano, secondo me è un gran colpo. Ovviamente si porta dietro i rischi della tenuta atletica, perché è un giocatore che potrebbe avere degli infortuni durante l'anno, però secondo me come mediano, se giocate con il mediano, con la mediana a due nel mantra, è un bel colpo, uno dei meglio. Secondo me è uno dei mediani più forti che c'è in Italia, perché è un giocatore che farà bene a livello di voti, ma secondo me tira fuori anche qualche bel gol. Cioè nel senso, un giocatore che potrebbe tranquillamente chiudere la stagione con sei, sette gol e quattro o cinque assist, perché per un mediano è tanta roba. Se giocate con il fantacalcio classico, secondo me Matic va visto come un terzo slot. Matic va visto come un terzo slot, dovete stare attenti, perché siccome è un nome esotico, siccome è un nome importante, è un top, di non pagarlo come se fosse un primo. Ecco, questo è il rischio. Cioè i primi slot sono altri. Ora, se il mercato non li porta via, i primi slot sono i Chiesa, i Milinkovic-Savic, i Barak, questi sono i primi slot. Ecco, Matic è ben lontano da questi giocatori, ma è lontano anche dai secondi slot, come potrebbe essere un Fabian Ruiz, per intendersi, o un Barella, così sono i giocatori di secondo slot. Matic è un terzo slot che può fare benissimo, che se fa benissimissimo può diventare un secondo, però dovete stare attenti a non pagarlo come se fosse un top di reparto. Ecco, se avete Matic come top di reparto non va bene, se lo mettete accanto a un top o a un paio di scommesse di alto livello, per dirvi due nomi, Zielinski e Damsgaard che hanno fatto cacare l'anno scorso, ma hanno le qualità per poter far bene, un trittico di centrompo, Matic, Zielinski e Damsgaard, secondo me, se giocate col classico, è un tridente rischioso, quindi in panchina dovete avere giocatori affidabili, però se vi gira bene avete fatto jackpot, questo è un po' il concetto. Bene, il mio video si conclude qua e se volete dire qualcosa, aggiungere, fare domande, non siete d'accordo, eccetera, scrivete nei commenti, io rispondo sempre a tutti, se volete supportare il canale iscrivetevi, perché quel più uno mi dà sempre il feedback che i video che faccio piacciono all'utenza, ci vediamo ai prossimi video che saranno dedicati agli altri colpi di mercato e ai fantamercati, trovate già il fantamercato della Roma, il secondo che ho portato sul canale, ma andiamo ancora a portare le altre squadre, quindi ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!